Mi è piaciuto come avevi detto Proietti quando gli hai raccontato l'incontro con Fellini. Sì, un incontro curioso che avvenne, di cui fui testimone e Proietti andava via e mentre andava via da Chianciano Fellini mi disse mai visto che bella faccia da cavallo che ha Proietti? Ma io l'ho frequentato per un bel periodo perché io doppiai Casanova, la voce di di Casanova, l'ho doppiato io e lui mi aveva fatto perché frequentava la tenda quando faceva negli occhi blisli, sarebbe un rosetto a tolto, a vedere dei vestiti di spettacolo per stare lì perché amava quel clima, poi mi disse chissà che non possa pensare a te per Casanova, poi lo fece un altro, ma che non ci ha mascherato, ovviamente, se mi aveva l'attore internazionale, e poi quando mi chiesero di doppiarlo di nuovo volevo doppiare, allora mi disse dai, di giaccia mi chiamava, e come si parla? Era un serpente tentatore. Grazie. 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 Grazie.